La dinamica è simile, coltello puntato contro una cassiera e il bandito a Cento Veneto che si fa consegnare l'incasso e fugge. Rapina fotocopia, quella venuta due sabati fa in centro a Campodarsego, martedì al Famila di Via Bassa Prima nella frazione di Rischigliano. Erano le 17.40 quando l'uomo, un berretto e una sciarpa a coprire il viso, è entrato puntando dritto verso le casse. Ottenuto il denaro, l'uomo è scappato fuggendo in sella a una bici. Due supermercati a Campodarsego, un terzo nella vicina Borgo Ricco, pochi giorni primo negozio di alimentari a Villanova di Camposampiero. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri che stanno cercando di capire se ad agire sia stato sempre lo stesso uomo.